Buongiorno signore spettatore Giulio, adesso lei assisterà al teatro di Aurelio Pasqua e la Nonna Vilma. Andiamo? E comincia la storia. C'era una volta e nel regno di Pinocchio... Geppetto La Volpe Pinocchio La Fatina E siamo pronti per fare una spettacolo. Buono spettacolo, guarda tutto. Buono spettacolo, ciao! Guarda tutto, guarda tutto, guarda tutto. Tu, no, alzate pure il puto, alzate il puto. Dai, anche se la testa esce con te. Ci siamo? Giulio, pronta il puto? Sei pronto Giulio? Pronto? Dai. Allora. Buongiorno, buongiorno. Avete visto il maestro Geppetto? Sì, sì. Sono qui. Ciao. Geppetto, mi fai un favore? Devi fare un bambino di legno. Lo puoi fare? Giulio, vuoi vedere un bambino di legno? Sì, certo che lo puoi fare. Tu è sfumiscilo. Ok, fatto. Tadà! Bravo! Io vado a vedere e fare altre macchie. Ciao, ciao! Vai avanti! Vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, 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 avanti. Ehi, basta! Tu sai camminare? Sai camminare? Buongiorno, bambini. È possibile che mi hanno detto che hanno fatto un bambino che si chiama Pinocchio? Sì, ho visto. L'ha fatto Geppetto. Pinocchio, io te conficherò perché tu, io sono il più forte del Bosco. Dammi, dammi questa manca nel petto. Che succede? Oh, io sono la polpe più forte del mondo. esatto chi è che mi sta menando sono io tu hai fatto male al pilocchio io combatterò con te ciao oh se mi è caduta la spada aspetta oh ma che succede ecco sono arrivata io la colpe dove sta ciao ciao oh sapete i miei occhi le volpe stanno litigando con Pinocchio devo fare la magia cinciarabin ciarabin pum pum non me la cuasta tu volpe cattiva non si fa questo adesso ce l'ho io la mazza no non ti per metterlo non ti per metterlo è un pacchimento cia 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 c Il mio spettacolo non è finito! Non è finito! All'improvviso tutti quanti si ritrovano senza armi! Bravi! E cantiamo una cassoncina! No! Non è vero! Perché poi sono ancora arrabbiati! E poi la colpe vuole mangiare Pinocchio quando il geppetto se ne va! Ah! Io me ne scappo in mare! Non ci sono più! Ho mangiato Pinocchio! Tengo la pancia piena! No! Io sono in mare! È stupido! Bang! E ora la colpe però! Vuole mangiare anche il geppetto! Mi sono svegliato un'altra volta! Qui è l'acqua! Oh! Tutte e due dentro l'acqua! Fatina! Tu devi liberarli! Non sto mangiando! Io posso fare la magia e liberarli! Sin salarim! Pum pum! Pi! Eeeh! Tutti quanti! Che becchia il pi! Moloro il colorato sto questo a terminare! Ti è piaciuto Giulio? Fate le mani! Aspetta! Aspetta! Ma poi la storia continua così! Che vi siano tutti felici e contenti! E la fatina! Fa diventare la colpe buona! Sì! Farò la magia e farò diventare la colpe buona! Vai! Vai! Cara, cara colpe! Venta! Adesso voglio essere amichetto di Pinocchio! Sì! Facciamo la pace! Sì! Tutti quanti insieme! La 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 la! 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 Aspetta! Ora l'abbraccio di Kruk! No! Fate le mani! Grazie! No! Aspetta! Tutti i rizzi le mani! Tutti con le mani! Grazie! Pubblico! Grazie! Ti è piaciuto? Se vi è piaciuto mettete un like! Un like! Ciao! 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 Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Il nostro aspetatore si è gustato tutta la scena e si è divertito molto! È vero Giulio? Giulio, ti è piaciuto lo spettacolo? Batti le mani! Yeeey